e ciao a tutti ragazzi io sono NovaElectric oggi facciamo un video particolare che non avevo mai fatto comunque è un video reaction a un video che ho trovato su youtube vi ricordo prima prima di tutto vi ricordo di iscrivervi commentare condividere e inoltre condividere anche il video scorso sul savior internet che ultimamente ne ha bisogno senza perderci in ghiacchiera andiamo subito a vedere di cosa si tratta università canina ok il primo giorno quindi tutti in massa per i posti migliori deserto ok la baccheca quella con tutti gli articoli giornali di quelli più passati 2014 recente ok sono di una certa se sono di una certa altezza possono entrare troppo bello ok slalom belli fatti così mi piace quella classe con i banchi fatti così molto bello è un disastro nooo 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 ma visto che può farcela nooo 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 ok il giorno dell'esame avanti al primo subito vediamo dai parti ha cacciato fuori no, infami no, non potrò mai diventare un cane guida no, non potrò mai diventare un cane no, non potrò mai diventare un cane no, non potrò mai diventare un cane non neanche ha visto no, vabbè no bellissimo sto video allora si sono ispirati cioè si sono ispirati è un fatto cioè quello che succede praticamente alla fine c'entra quelli di addestramento per i non vedenti per i cani guida per i non vedenti e comunque stavo a pensare c'è veramente un sacco di lavoro dietro questi addestramenti e comunque quindi è un grande comunque è un grande servizio che viene fatto alla società che lo apprezzo moltissimo e comunque è bellissimo non ha passato l'esame nel momento del bisogno diciamo ha passato l'esame dimostrando che ce la poteva fare è molto mi è piaciuto veramente questo video e fatemi sapere se volete altri video di animazioni brevi è un video alternativo ho deciso di fare visto che comunque non avevo molto tempo oggi ho deciso di provare a vedere uno di questi video così è veramente bello comunque vi ricordo di iscrivervi, commentare, condividere e attivare le notifiche premendo sulla campanellina qua sotto io vi lascio comunque sotto in descrizione il link a questo video che sotto ci sono anche un'altra serie di informazioni ho visto ci sono pagine facebook un sacco di pagine comunque dedicate a quell'azienda che ha prodotto questo video comunque io vi saluto vi ricordo di iscrivervi e commentare vi saluto un saluto da Interizzante e ciao 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 ciao